Salve e benvenuti in Dr. Spy. Oggi vi presentiamo un nuovo dispositivo, un videoscopio per ispezioni visive. Il dispositivo viene fornito da questa valigetta. Abbiamo il dispositivo, è una sonda da 5 metri con infrarosso e risoluzione full HD. Con questo dispositivo potremo eseguire video ispezioni in qualsiasi posto dove non possiamo vedere normalmente, quindi su controsoffitti, dietro mobili, sotto ostacoli di vario tipo o eseguire delle visite ispettive, soprattutto nei veicoli, per poter trovare dispositivi installati in maniera fraudolenta. Il prodotto è semplicissimo da utilizzare, basta collegare la sonda, dopodiché basta accendere il dispositivo. Il prodotto vi dà anche la possibilità di inserire all'interno una SD card, in maniera che tutto quello che noi vediamo dal monitor possiamo registrarlo. Possiamo registrare sia il video, ma anche scattare delle foto a nostro piacimento. Dopodiché, una volta estratta l'Sd, possiamo andare a rivedere tutto tramite un computer. Il dispositivo è una batteria litio interna integrata che vi darà un utilizzo di circa quattro ore. La sonda è di piccole dimensioni, come abbiamo detto è lunga 5 metri, ma è larga meno di 6 mm. Abbiamo la possibilità di attivare l'infrarosso e decidere la potenza di illuminazione dell'infrarosso. Il prodotto è in altissima risoluzione, quindi potremmo vedere tranquillamente anche i dettagli. Trovate questo kit disponibile sul nostro sito www.drspy.it o direttamente presso il nostro negozio. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.